Cazzo ragazzi, perché nessuno si ferma? Perché stai sbagliando tutto! Devi dare al guidatore un piccolo incentivo! Tipo cosa? Tipo questo. Un pompino per un passaggio. Ah, d'accordo, ma che succede quando ti prendono su e tu non vuoi lavorare di bocca? Non ti scaraventano sul marciapiede? Certo, se non vuoi lavorare di bocca. Sì! Ehi, se mi portano a un centinaio di miglia da qui, io lo prendo pure in bocca. Sì, però noi non siamo gay. Non essere così periferico. È il nuovo millennio. Omo, etero, è la stessa cosa adesso. Non ci sono più divisioni. Beh, c'è una divisione. Da questo lato non siamo gay. Ehi, tutti gli autostoppisti lo fanno. Perché pensi che la gente si fermi? Ti danno un passaggio se lo aspettano. Non mi frega nulla chi è che guida. È la prima regola del libro. Che libro? Il libro non scritto della strada. Segui le regole del libro e ti porteranno dove devi andare in un batter d'occhio. Scusatemi. Voi due non dovete per forza sedere là dietro. perché uno di voi non viene a sedersi qua? Da dove venite, ragazzi? New Jersey. Ma stiamo andando a Hollywood. Oh, a Hollywood, eh? Bene, è molto lontana. Sì, grazie a Dio ci hai caricati. Beh, fai agli altri. Questo è quello che dice il libro. Aspetta un attimo, non mi dire che anche tu segui il libro. Io vivo per il libro. Tu? Certamente. E quindi anche tu segui le regole del libro? Beh, ci hai dato un passaggio, non è vero? E quindi devo... Sono molto contenta di sentirtelo dire. Ma una cosa è dire di seguirlo, un'altra è farlo davvero. Tu te la senti, caro? Ti va di farlo davvero? E va bene.